salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono gene e oggi siamo tornati finalmente su clash royale non ho il telefono nuovo sto registrando con un altro telefono quindi prendo il pretesto per iniziare una nuova serie questo è clash royale dall'inizio perché sull'altra serie ho iniziato a registrare che ero in arena in arena 7 impara quindi andiamo con la prima sfida nel campo di prova ovviamente col tutorial ovviamente facile buttiamo un po di carta a caso quando ci fa vincere ovviamente c'è pure l'elizio per due fatto una mezza carattina vuole andare avanti il come si chiama moschettiere comunque però credo che abbiamo sei carte facciamo così e così e così lui mi butterà sempre ai goblin ma comunque abbiamo vinto quindi il baule di legno mamma mia chi sta quale cose ci troverò apriamo il baule si sblocca in 15 secondi questo sarà disponibile questo baule solo per il periodo in cui sarete al campo di prova per chi non lo sa quindi mamma mia quante carte allora andiamo a potenziare dato che possiamo e andiamo a combattere dobbiamo fare sette partite al campo di prova sì non lo ringrazio sì sì mi 805 per avermi prestato il suo dispositivo perché ho il telefono rotto quindi non posso registrare quindi la ringrazio perché sto registrando con il suo vabbè adesso adesso è molto easy fare le cose varie perché comunque ma comunque anche in arena 1 sarà molto facile anche perché io ho altri account in arena 3 ad esempio 1 che poi ho disinstallato che mi scocciava giocarci perché non riuscivo a registrare con quel dispositivo ma comunque è molto easy anche perché ormai io so giocare quindi incontro spesso e volentieri gente che ha appena iniziato a giocare a clash royale e quindi è un po' inesperta diciamo lo facciamo così vabbè ci vediamo quando avrò finito anzi quando avrò gli slot dei bologni pieni e poi quando avrò finito le battaglie perché se no vi annoi il resto ragazzi ho trovato questo bologno di legno in cui c'è un'epica assicurata lo sapevo che l'avrei trovato perché comunque te lo da sempre in un altro account ho trovato il culcio del drago ma con l'account con cui ho fatto video fino a un mese fa e ho trovato il principe e anche mia sorella sisimi ha avuto la fortuna di trovare il principe in quel baule abbiamo vinto quindi adesso avrò tutti i slot dei baule pieni e quindi adesso cominciamo ad aprirgli allora apriamo questo vabbè oro, bombarolo, buono potenziamolo, buon schettiere sbloccato frecce arciari buono me li posso potenziare, apro questo ed infine quello con l'epica bello sfero infuocata speriamo nel principe buono ragazzi allora un danno abbiamo trovato il principe e già ce l'abbiamo nel deck perché poco fa fino a poco fa avevamo 6 carte ci potenziamo tutte le carte ok siamo pure di livello 2 va bene il principe fa moltissimi danni e ci vediamo quando l'ho finito queste due partite allora ragazzi mi è capitata una combo possibile cioè questa qui che sarà potentissima non ve l'ho l'ora di combattere in arena spacchio mettete le frecce dunque non ve l'ho l'ora di combattere in arena perché all'inizio se mi capita questa combo possibile faccio il devasto il gigante manca il tempo di arrivare sotto torre guardate già fatto ci vediamo quando l'ho finito la settima partita con la prima e poi faremo la prima partita all'interno mi chiede di mettere il mio nome allora ci metto j.m.gaming ok scusate c'era mia sorella che parlava ma comunque niente ho messo il mio il nome del mio il mio nome il mio username vabbè questa partita dai ve la faccio vedere tutta e poi lo puoi fare l'ultima partita credo anzi ve ne faccio un'altra due dai ve l'ho un po' lunghetto come video ma cioè il primo di questa serie oh il moschettiere c'è oh attenzione attenzione ma già fai un po' lo stronzo eh lo stronzo boom non ho troppa paura del gigante adesso se riesco butto il principe ancora il moschettiere non ho avuto modo di utilizzarlo ma ecco arriva il principe non ce l'ha fa non ce l'ha fatta perfetto abbiamo vinto riusciano moltissime carte che ancora non ho utilizzato come la sfera infuocata il moschettiere è il ok se mi metto in arena 1 il moschettiere la sfera infuocata e le frecce intanto il nostro primo baule omaggio abbiamo sbloccato i goblin qua non troveremo assolutissimamente niente ma i goblin non c'è li sono disponibili qua no e quindi abbiamo i goblin che potremmo metterli anche al posto del moschettino no del del cavaliere anche se me li vorrei un po' potenziare quindi andiamoci a fare la nostra prima partita in arena quindi arena goblin perfetto possiamo fare la combo ok ricala quella roba lì ok facciamo di questo va bene gli abbiamo fatto un po' di danni anche lui ce li ha fatti vai prendi la carica bravo facciamo così vediamo se arriva sotto torre perfetto ovviamente questo è è molto più difficile che giocare contro un computer diciamo che comunque contro un bot anche se può capitare non so se lo sapete su clash royale può capitare di trovare dei bot perché comunque questo è un gioco bastardo che quando ti vuole far perdere ti fa perdere ok ok ho sbagliato non avevo più visto i goblin teoricamente la mia torre mi aiuta faccio così ok e di qua potrei mettere il moschettiere anche se lui poi ha l'orda di scheletri l'ha buttata di là quindi io potrei provare a fare così così ok io non gli abbutterò di sicuro però gli ho fatto ingenti danni alla torre ora mi difendo non appena ho l'elisir butterò il principe ok lui continua a difendersi ho buttato il principe butto il bombarolo che mi dà una grossa mano contro questi stupidi scheletri ma guarda mi ha rotto tre quarti e la minchia sinceramente ma vaffan ancora e ho detto chiaro c'è e non muore quindi allora la sfera invocata fa la torre 163 di danno dato che ne aveva 165 allora faccio un'altra partita e poi concludo il video ok ragazzi mi ha trovato la partita un livello 1 molto quindi vabbè non dico che è scarto perché comunque siamo tutti scarsi per quando riguarda le carte c'è anche chi potrebbe essere più forti di qualcun altro a giocare però sulla carta siamo tutti scarsi che cavolo metti il mini pecca perché tanto te lo te lo c'è smolecolo praticamente manca il tempo di schierarlo il mini pecca era già morto facciamo così e abbiamo già fatto una torre ora il mio obiettivo sono sempre le tre corone perché giustamente per il baule della corona mi servono ha buttato il cucciolo il drago che non dovrebbe essere un grossissimo problema per me perché non fa tutti sti danni a questo punto devo fare così e così lo blocco il mini pecca e ci prendevo un po' di danni l'unica soluzione butto questo dopo di che devo sperare che di fare un po' di danni alla torre del re la torre del re è la torre centrale praticamente perché molti la chiamano torre centrale però sbagliano perché si chiama torre del re e quelle laterali sono le torri della corona ok nuovo attacco da parte nostra chissà forse mi aveva buttato il mini pecca e l'ho distrutto subito boh vabbè faccio così faccio così e dovrei aver vinto bella partita comunque ragazzi per questo video è tutto io vi ringrazio per la visione invito a lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto è commentare qua sotto scrivendomi qualsiasi cosa io ringrazio pure questi simi per avermi fornito il cellulare per registrare e vi ricordo che usciranno forse altri video dato che adesso ho la disponibilità per registrare e che adesso comunque farò un po' di partite andrò avanti perché così se no vi annoiate vedermi sempre in arena 1 quindi da Gena Gaming è tutto ciao ciao e un'altra cosa per concludere il link del canale di Sissimi sarà nella descrizione del video se l'ho detto ciao ciao